ciao a tutti bentornati al canale led di stato con paolo guala eccoci qua versus tra l'iphone 5 e il galaxy note 3 l'ultimo note di casa samsung un confronto interessante anche se le dimensioni ovviamente sono molto molto più generose ma io considero più uno smartphone che è un tablet note 3 è un phablet comunque assolutamente godibile anche come telefono quindi diciamo un confronto che ci può stare due filosofie diverse si sa due sistemi operativi diversi ma un confronto secondo me molto interessante parliamo subito del lato estetico possiamo partire da iphone ovviamente molto più ovviamente ridotto un 4 pollici come diagonale di schermo una linea assolutamente stupenda che ha il consapevole come bellezza estetica non si discute molto molto leggero linee molto essenziale arrotondate conosciamo bene l'estetica di iphone è sicuramente molto 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 bello da questa parte c'è un altro capolavoro un'altra opera d'arte che il galaxy note 3 che veramente è veramente bello nonostante le dimensioni siano generose non si notano è leggerissimo e maneggevole a queste linee essenziali anche lui arrotondate simile alluminio simile pelle indovinatissimo per il dietro che a me fa veramente impazzire nonostante non sia nientanto che un simile pelle poi in realtà policarbonato però è molto bello questa scritta ovviamente rilevata e non stampata ma incisa diciamo come scritta non in rilevazione mentre essendo così rilevate in simile alluminio ovviamente non si consumerà e è sicuramente più bella da vedere per quanto riguarda invece lo schermo qua abbiamo un 5,7 pollici ovviamente super amoled full hd retina display per quanto riguarda iphone 5 che già conoscete e processore ram un gigahertz e 22 al core con un giga di ram qui invece abbiamo ovviamente un quad core con 3 giga di ram qualcomm reti lte per tutte e due qualcosa più aggiornato bluetooth ultima versione lte quarta categoria per quanto riguarda l'ultimissima note un po più indietro iphone ma di poco insomma sono tutte e due comunque le reti aggiornatissime lte tutte e due attuali per quanto riguarda i schermi possiamo fare una prima accensione godere subito della fluidità ovviamente 4.3 android da questa parte i os 7 da questa parte ovviamente tutte e due fluidissimi tutte e due velocissimi non 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 mi sento di dare una particolare differenza tra i due dispositivi forse addirittura notte più veloce proprio non ha notando anche che è un sistema diciamo appena nato note 3 è ancora da rodare sembra già ai livelli di iphone se non ancora più veloce questo è già rilevante no per un dispositivo cosa possa arrivare a essere in futuro note 3 no per quanto riguarda quindi peso ergonomia estetica li metterai allo stesso livello fluidità generale e direi per quanto riguarda diciamo gli spunti diciamo nello scorrere le home ed entrare appunto nelle impostazioni varie qualcosina in più il note ma siamo siamo sullo stesso diciamo sullo stesso livello forse qualcosina in più il note per quanto riguarda l'audio in chiamata possiamo provare subito il viva voce del note noi possiamo sempre essere con il volume al massimo ovviamente questo è il viva voce può avere anche un aggiunto di volume del note possiamo fare la stessa cosa con iphone non ha il volume aggiuntivo mettiamo la voce ma spengo subito perché mi pare chiaro che il viva voce di iphone è superiore quindi l'audio in chiamata nella causa è assolutamente a favore di note quindi ci sentono benissimo e sentiamo benissimo dall'altra parte benissimo anche l'audio in chiamata per iphone assolutamente ci sentono e sentiamo bene ma la qualità credetemi del note è leggermente superiore per quanto riguarda la voce nettamente superiore iphone quindi sulla chiamata li metto allo stesso livello assolutamente client mail bello il nuovo client mail di os7 come avevo già fatto vedere nell'aggiornamento ma molto bella anche la gestione gmail che c'è da questa parte per quanto riguarda scusate per quanto riguarda il note 3 quindi diciamo che anche da questo punto di vista oramai siamo siamo su livelli elevatissimi anche qua per quanto riguarda la mail siamo praticamente la pari schermi adesso voi vedete un po più luminoso note 3 perché è impostata automaticamente la luminosità di note 3 e si vede bene se imposta automaticamente la luminosità dell'iphone va un po a fare del bianco nel video quindi ho dovuto abbassarla quindi diciamo che il note 3 ha la luminosità leggermente più elevata e riesce a gestire meglio la luminosità automatica senza dar fastidio al video qui ho dovuto abbassare però credetemi che a livello di una fotografia possiamo vedere qualche sfondo qualche immagine potete farvi voi poi un'idea allora andiamo qua facciamo molto veloce vediamo una fotografia sul note come potete vedere la qualità è veramente eccelsa dello schermo a livello proprio colori e fedeltà iphone non credo sia da meno quindi possiamo tranquillamente dare un'occhiatina anche qui a questa bella spiaggia se no possiamo anche tornare indietro vedere qualcosa col verde che non guasta anche qui diciamo che sono due filosofie diverse qui abbiamo un superamole da full hd da 5,7 pollici qui un 4 pollici con con appunto una retina display sono due bellezze straordinarie ma secondo me a mio a mio a mio modestissimo parere il note 3 è uno schermo irraggiungibile per la prima volta c'è un dispositivo che supera iphone ecco secondo me leggermente ma il note 3 è superiore a livello di display anche nella gestione della luminosità automatica da una calibrazione pensando che il galaxy s4 aveva una calibrazione non ancora ottimale soprattutto ls3 ma poi anche mentre con il note 3 hanno lavorato perché è istantanea è molto ben gestita l'ho notato appunto che il riflesso nel video era molto più alto mettendo la luminosità automatica di di iphone 4 ma poi anche al buio da una leggermente più alta la luminosità iphone che forse non servirebbe anche se gestita molto bene ecco ma appunto il display appunto per me è un punto a favore del note 3 una piccola chicca sul note 3 che volevo far vedere che mi chiedete sempre su i widget meteo ho trovato questo aggiornamento del go weather x è sempre lui però c'è questo nuovo tema che si può impostare che ha led neon bellissimo blu particolare su un muro con un marciapiede in hd che è molto bello ed è una cosa diversa dai soliti cieli azzurri con la pioggia classici che arrivano data temperatura minima massima data attuale orario e soprattutto questa grafica bella avete nuvi di sera di giorno c'è il sole con la pioggia ci dice anche se c'è la nebbiolina la nebbia l'intensità direi che se avete già go weather x l'avete già installato aggiornatelo con questo tema che è molto bello ecco questo era un consiglio spassionato proprio che davo io browser web facciamo una prova di tutti e due i browser mettiamo ben vicino i dispositivi tenterò di andare su virgilio nel medesimo nel medesimo momento ecco c'è già iphone non ci sono ancora con con note 3 ci sto arrivando ecco qua allora versione classica sono tutti e due sotto copertura hs dpa sempre rete h3g quindi paragonabili proviamo a cliccare un link nello stesso momento che non sia pubblicità varie sennò dopo succedono sempre allora vediamo un po vediamo un po ecco quasi parla dell'iphone 5c clicchiamo insieme via apri apri e vediamo leggermente in questo spunto forse l'iphone 5 leggermente più veloce ma si parla di millesimi di di secondo proviamo aprire un'altra nota mettere apri a tutte e due qui è già andato su apri qui no apri apri non siamo partiti insieme però quindi niente la fa ecco qua leggermente adesso forse note 3 ma potete vedere fluidità del browser assolutamente il pan e anche lo zoom adesso questa fosse una versione mobile non si vede dopo torneremo indietro lo facciamo comunque velocissimi fluidi tutte e due proviamo a tornare indietro in entrambi i casi qui dobbiamo cliccare per far uscire le frecce qua sotto sui os7 per tornare avanti indietro proviamo a tornare ovviamente indietro chiudere una finestra qui invece con note più facile basta cliccare indietro si torna sulla home page riproviamo vedete tutte e due pinch to zoom il pan è velocissimo in entrambi i casi non ci sono particolari problemi la fluidità di note eccezionale anche quella di iphone se al browser di os è veramente incredibile ma anche quello di note 3 oramai di android in questa versione di note non ha nessun problema direi stesso livello sì sì assolutamente fluidissimi pinch zoom pinch in out pinch in velocissimi apertura medesima millesimi di secondo per uno millesimo di secondo vantaggio per l'altro parliamo proprio di piccolezza io direi di 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 metterli sullo stesso sullo stesso livello audio potete sentire voi un qualcosa da qui vediamo un attimino per farvi un'idea allora 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 andiamo anche qua se abbiamo youtube ce l'abbiamo sentiamo un po e fermo lì fermi tutti sentiamoci questa qua sul note 3 vediamo se il volume al massimo sono provvedo perché sennò ecco questo era il note 3 ovviamente cassa unica cassa a destra posizionata più felicemente che sotto come una volta doppia cassa invece stereo per quanto riguarda doppia uscita audio per quanto riguarda iphone che possiamo far partire anche qua tranquillamente una una un qualcosa di audio così possiamo possiamo godere assolutamente vediamo un attimo volume anche qua bisogna metterlo al massimo sennò sembrava un po' briaco ma non importa l'importante era sentire l'audio e secondo me anche qui iphone comunque nell'audio anche musicale è leggermente superiore il reparto audio del viva voce nell'uscita anche musicale è sicuramente superiore le tastiere sappiamo benissimo se parliamo di ios che tipo di tastiera abbiamo assolutamente potete vedere adesso l'anno l'hanno rivista forse non l'ho fatta vedere tra l'altro una cosa che ho dimenticato nel presentare gli s7 appunto la tastiera che è stata rivista graficamente in questo modo chiedo scusa ve la faccio vedere adesso che non è male è praticamente similar prima ma graficamente molto più bella e raffinata velocissima senza impuntamenti ovviamente classico stile di apple ma migliora sia esteticamente che graficamente eccola qua sempre fluida per quanto riguarda invece la tastiera di note 3 posso farvi vedere le classiche poi vagonate di tastiera che si possono scaricare anche dal dal market ovviamente e qui invece troviamo la possibilità di scrivere a me piace moltissimo in swipe cioè con la con la linea continua che a me piace molto se no nella classica modalità col pop up di apertura che ci può anche essere su iphone basta impostarlo fluidità incredibile la tastiera veramente bella anche qui da questo punto di vista sono molto molto utili e pratiche tutte e due velocissime fluidissime a me piace di più quella di note 3 sento di dare un vantaggio a note 3 anche sulla tastiera perché comunque offre più varietà c'è l'inserimento continuo c'è lo swipe è bella esteticamente quanto è bella quella di iphone ma è più ha più opzioni ed è più è più bella sinceramente ecco qua abbiamo visto inutile poi divulgare ulteriori cose avete visto nelle recensioni singole le foto e video che fa l'iphone le foto video che fa note 3 anche da questo punto di vista secondo me anche se di poco note 3 è superiore forse nelle foto iphone ancora qualcosina pari qualcosa di più ma nei video assolutamente secondo me note 3 avanti diciamo che sono sullo stesso livello forse un punticino in più la samsung soprattutto per tutte quelle opzioni e stra opzioni che ha che la fotocamera e il software delle foto di iphone non c'è tipo la possibilità di modo ritratto la possibilità di far cuore nelle fotografie tantissime opzioni che che la fotocamera di samsung ci offre che invece non c'è quindi da questo punto di vista un punto di vantaggio sicuramente a samsung note 3 ce l'ha conclusioni due dispositivi che sono 729 euro forse gli unici due sul mercato a questo prezzo giù di lì due top di gamma supersonici sicuramente belli esteticamente stupendi due gioielli della tecnologia scelta difficile perché sicuramente questo è più non ho parlato ovviamente della differenza incredibile ovviamente non sto neanche a citarla perché la penna ovviamente che il note 3 ha e sapete tutte le funzioni della recensione e che e che e che iphone non ha però questo appunto è più per portato al business quindi questo è un phablet quindi una via di mezzo è un tablet e uno smartphone ma utilizzabile scusate utilizzabilissimo come smartphone e telefono in quanto è compatto è molto leggero e non si avvertono assolutamente le dimensioni l'ho già detto nella video recensione in più al pennino che è un plus incredibile una cosa aggiuntiva incredibile quindi questo iphone sicuramente non ce l'ha e quindi se non vi spaventano sicuramente le dimensioni amate la tecnologia a 360 gradi volete il top del top sicuramente note 3 non ha è uguale sul mercato se volete l'usabilità la bellezza l'estetica la velocità la lo schermo stupendo e che si sa che è retina e tutte le altre funzioni siete degli affezionati alla apple sicuramente iphone 5 rimane il punto di riferimento per l'usabilità per la bellezza estetica materiale tutto quanto non lo mettiamo in discussione ma secondo me se oggi proprio dovessi scegliere dovessi scegliere come al solito far sparire qualcosa mi tengo il note 3 sicuramente ma iphone 5 rimane sempre un gran dispositivo da paolo uguala la dd stato è tutto ci vediamo alle prossime grazie come sempre ciao 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 ciao